No, quello è il mio letto, quello è il mio letto, porca miseria, stanno arrivando gli zombie, porca miseria, puoi non urlare che sto provando a dormire Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video della vanilla degli youtube Sta finendo la musica, trovate la vostra sedia Mi siedo qua, mi siedo qua Ok, perfetto Dei flori in sfornace Allora, 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 comunque sia Abbiamo, nello scorso episodio, costruito questa fantastica casa di Kendal insieme Abbiamo, l'ho fatta io L'ho fatta tutta io Ma l'ho fatta io? No Abbiamo, l'ho fatta tutta io No, 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 no Ma questa è casa mia ragazzi, ma cosa volete? Andate via, Mark, questa è casa mia Comunque sia, Mark, ti ho chiamato, ti ho proprio evocato perché oggi ho bisogno di un altro super costruttore Perché oggi dobbiamo Io che ci faccio qua? Ho bisogno anche di un aiutante Allora, perché dobbiamo costruire la mia casa? Sarà una torre gigantissima Guardate che roba gigantesca Ok? Ve la sentite? Sì Eh? Si può rifiutare in qualche modo? No, non si può rifiutare Sì, puoi andare, se vuoi puoi andare Ah, ok No, no, no Non puoi prendere nel shop No, vieni qui, vieni qui, ormai sei qui Dai, allora, facciamo così Quando troveremo i diamanti Te ne daremo tantissimi, ok? Oh! Vi voglio far notare che nel server ci sono tantissimi altri youtuber online E quindi attenzione che ci potrebbero trollare un sacco di persone Ok Tra l'altro Vediamo Sbaglio, stai facendo la tua casa, la tua torre gigante proprio sopra la mia E beh, sì Abbiamo deciso di convivere insieme, più o meno Così fai un passaggio segreto Sì Sì, tanto l'ha già detto, è inutile bisbigliare Ah, ok Ok Dai, cominciamo, cominciamo Allora, ho intenzione di fare una torre Voi sapete fare le torre, no? Le torri? Eh, tutti i giorni Io vivo su una torre Tra l'altro vogliamo anche precisare che tutti questi blocchi glielo ho presi io Lui mi ha detto io ti ho costruito la casa Vabbè, io gli ho costruito la sua casettina e lui non mi dava niente Cioè, scusa È stato vendicativo Vendicativo Mmm Interessante Il perimetro è questo, eh Il perimetro è così grande Ok Mi piace, mi piace Ma quanto ci paghi, giusto per capire No, 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 la marca, che domanda è solo Non lo conosci, bella faccia Che domanda è solo Cioè, io voglio i soldi qua, scusate E poi te li do, poi te li do Eh, allora, c'è un cavallo Vuoi un cavallo? Io voglio i bacini a effetto di Kendall Ok Va bene? Siamo lontani, è il periodo giusto per stare lontani Sì, è il periodo sbagliato Allora, mi raccomando, ragazzi, eh Non deve essere tutto uguale Kendall, stai già facendo Eh, ma scusa Io sono confuso da cosa stiamo costruendo, ragazzi, giuro È una torre Sto sbagliando, bella faccia No, 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 va bene così Allora, il primo punto deve essere così Poi pian piano, guarda Allora, qui iniziamo Senti, io allora faccio questo punto Iniziale ad entrare, guarda Qua inizia l'entranza L'entranza Così? L'entranza L'entranza? L'entranza? Così? L'entranza? Io sono confusissimo, parte 2 Guarda, guarda, ti spieghiamo, Mark È una torre gigante e poi devi farla rientrare Devi farla chiudere, tipo No, l'entranza L'entranza? Dai, fan qua Fin qua Fin qua ci siamo Mio Dio, è più difficile di qualche immaginazione Oh, bella sta manila dei youtuber Ci mi piace Io proporrei, tipo, ogni 10.000 mi piace Costruiamo qualcosa assieme Per vedere cosa ne esce fuori Si sta, si sta Ok Sì, sì, sì Ok, perfetto, perfetto Siamo tipo un torneo di costruzioni Allora, io vedo che state parlando e basta Non vedo che state parlando Io sto, allora, io ho già stato gratis Va bene Infatti, non mi paghi nessuno Vabbè, io Hai ragione, hai ragione No, 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 no Resta, resta Ah, ma stiamo facendo un ristorante qui Sì, stiamo facendo Allora Quasi sarà la porta Cioè, abbiamo già finiti i blocchi Voglio Ma quindi la porta non la fai? La fai così aperta? Eh, vabbè, ma poi la modifico Adesso facciamo lo scheletro Eh, no, perché qua l'hai fatto da 3 Quindi metti 3 porte No, metto Vabbè, sarà aperto Ci pensiamo dopo Perché lui vive al Colosseo Quindi vuole lasciare tutto aperto Guardate Ascoltatemi Allora guardate Qua adesso inizia a salire Adesso facciamo un tubo Perché questa base l'abbiamo fatta Adesso facciamo un tubo Un tubo Sono sicuri che siamo in vanilla Con delle sci Sto costruendo con due scimmie Ci sono le banane Ci siete? Siete operativi? Se viene brutta Te l'ho detto vado a vivere in casa tua Io pensavo stesse per dire Kendall io sono nato brutto Sono confuso Però va bene andiamo avanti Aspetta di quanti blocchi bisogna Perché io qua sto sbagliando Ma cos'è sto? Chi è che ha messo sti cosi? Non io Ah per salire io Dai vieni qua Arrivo Direi che possiamo chiudere Ci siete? Ma giusto per sapere Come si arriva al secondo piano Perché io vedo Dopo le scale Allora Le scale a chiocciola Le scale a chiocciola Facciamo Chi le fa? Allora Adesso Facciamo Dai lo scheletro Facciamo l'inizio Lo scheletro Sì lo scheletro Devi fare uno scheletro No lo scheletro Ma io secondo me possiamo fare una torre No lo scheletro Attiriamo giù tutto No 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 Non buttare giù nulla Ok aspetta ora facciamo la rientranza La rientranza ok si qua No possiamo ancora farlo salire un pochettino Sicuri? Sì 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 Falla salire un pochettino Ah ok Comunque mi piace che abbiamo messo tutto strano, tutto da caso proprio Eh ma è quella la particolarità del legno, tutto quanto un legno intagliato Sì sì però mi piace perché sicuro dopo riusciamo a fare qualcosa di carino Con i rampi caranti, è mio quel cavallo Ma noi stiamo pensando a costruire e lui pensa al cavallo No ma giusto per... Ma guarda che bellino Torna subito qui No no aspetta prima devo diventare mio amico Torna a costruire Ma guarda quanto è grande la torre vista da qua È bella eh? No è enorme È solo che il legno non penso che ci basti Eh andiamo a rubare? Ok ho capito No 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 come rubare? No dai no già No io non ho detto nulla Non ho detto nulla Facciamo con chi è che... Eh dai dai fai la legna Fai la legna dai Io tanto sono inutile a fare altro Vabbè vai a cavallo prendere la legna Vai a cavallo sì Sì ci penso io Quanto me ne serve? Quanti stacchi? Eh il più possibile Posso? Il più possibile sì Ok Allora Allora vediamo Tu continua Mark che stai facendo un ottimo lavoro Grazie Anche un po' di pietra per caso? Un po' di? Pietra Un po' di? Cobblestone No Per me non è male su una torre però la pietra Sì sì No no guarda Infatti la metto adesso Ok Così guarda La mettiamo un po' così Perché guarda Mark Scendi un attimo Guarda Avevo intenzione Arrivo Avevo intenzione Guarda di farlo un pochettino Arzigogolata così Arzigogolata Ma ti è molto carina No no arzigogol Da arzigogol 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 Arzigogolare Così guarda adesso ci mettiamo tutti questi dettaglietti Ci sta Mamma mia quanto è bella È bella Aspetta Arrivo in posizione Kendall per vedere Dovete venire da casa mia Da qua Con la casa La casa in basso Vediamo Vediamo Wow Ok Ok la vedo Ok per ora Sembra un panettone Ok Sembra un panettone per ora Porca miseria Che bella È bella Poi la riempiamo di dettaglio Ovviamente in questo episodio non è che riusciamo a farla tutta Perché non è che siamo gli dei della costruzione Cioè io Ok Io sì Tu forse sì Kendall lasciamo perdere Però Posso dire una cosa Te la compro 5.000 euro 5.000 No dai Di più 10 Di più Sai vero Kendall sai vero che siamo in debito con lui dopo che dobbiamo aiutarlo a costruire Un grandissimo debito No 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 tu sei in debito No 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 Non mi hai aiutato a fare la casa No no visto che io ti ho aiutato tu mi stai aiutando E se mi aiutano e dopo mi dovrai aiutare anche a me Ma che significa Io sto aiutando No 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 Allora io da quanto sapevo mi ha scritto il blog Kendall per dire Sì sì Eh ma infatti sì sì Sempre lui Sì 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 Eh C'ho i messaggi di Whatsapp e non è andata così Whatsapp 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 Tieni allora vuoi della legna ti riempio la cesta di legna Allora prenda 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 Salve ecco lei Ok sta venendo bene eh Però serve un sacco Oh uno scheletro Uno scheletro Si attaccano Si attaccano Oh porca miseria lo sapevo Sta arrivando qua Sotto attacco Io vado a casa Eh voi litigate pure io intanto costruisco Ok ok Barricatevi barricatevi Aspetta aspetta sta arrivando uno scheletro Ah porca miseria Mori 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 Ok fatto Che giocatore Che giocatore Occhi gli zombie Professionista Occhi gli zombie Eh già Ma andate a dormire Eh sì effettivamente Però stanno arrivando Mark una mano No quello è il mio letto Quello è il mio letto Porca miseria Scusami anche sto dormendo Stanno arrivando gli zombie Porca miseria Puoi non urlare che sto provando a dormire Eh dietro No zombie dietro Oh ma cazzo è baccano Porca miseria Kendall ti prego aiutaci tu per favore Ha uno stick Arrivo io arrivo io Ha droppato un lingotto Il mio primo lingotto Ma è rarissimo che uno zombie droppi il lingotto di ferro Andiamo a dormire Qualcuno ha chiamato un gladiatore Allora tutti a casa di Kendall Ok Fatemi fare una spada Ecco a cosa vi servo io Proteggi dei mostri Oh guarda i tre porcellini Oh finalmente Chiudete che è il lupo Dopo Vieni dentro Entra Di agli altri di dormire Oh arrivano gli zombie Chiudi chiudi Voglio andare a aprire le porte Dormiamo Dormiamo Ah come siete belli Sarebbe bello fargli uno scherzettino Buonanotte Bella faccia Non iniziamo Ah Perfetto Buongiorno 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 Ma che confusione Ma quanti vostri ci sono qua fuori A me pare Un inferno Attenzione Attento Attento Attenzione Perché c'hanno con The Mark Perché vogliono puntare il migliore Per caso Ecco qua Ma dov'è quell'altro È scappato Kendall È rimasto pietrificato dentro casa Kendall Aveva paura di uscire Aveva paura Allora Continuiamo a fare la casina Vediamo Ce l'abbiamo quasi fatta Poi ovviamente Sì è molto bella Ovviamente Come ti ho detto Pian piano Aspettate è arrivato alla postina Ok Qua delle foglie Però direi che ci siamo Eh C'è un problema Bella faccia Che problema Sta andando a fuoco Chi è che ha messo questo coso Io Chi osa mettere Chi osa mettere il fuoco Nella casa No 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 Piano La casa di Pedor Guardate così Figlio di Khmer Sì vabbè ragazzi Allora direi che per questo episodio Abbiamo fatto un successone Eh La vanilla sta diventando sempre più bella E aspetto con ansia la tua casa No no Questa è la mia Ehi Ciccino questa è la mia Che è messo la tua Questa è la mia Sì sì Dove sta andando quello lì Il patto con Kendall era Sto guardando tutto No 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 Bella faccia Che cosa Il patto con Kendall era Facciamo finta che quella di bella faccia Non devo dire No 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 Vabbè Vado Ciao Ciao Ma dove andate Vabbè mi hanno lasciato da solo Ragazzi Spero che la casa vi sia piaciuta Lasciate un grandissimo mi piace E ci vediamo dopo Con un nuovo video Ciao 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 Ciao